Domani il Milan farà il suo esordio in Europa League. I rossoneri, dopo diversi anni, completeranno il loro ritorno ufficiale in una fase a gironi di una competizione europea. Calcio d'inizio ore 19 contro l'Austria-Vienna all'Ernstapp e Stadion. Per l'occasione Vincenzo Montella dovrà fare a meno dei suoi terzini ufficiali ovvero Andrea Conti e Rodríguez. Il primo non è ancora al 100% dopo l'infortunio alla Caviglia. Il secondo non partirà per l'Austria per Turnover. Stesso discorso per Borini rimasto a Milanello pure lui a lavorare. Di seguito la lista completa dei convocati. Portieri. A Donnarumma, G Donnarumma, Storari difensori. Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Zapata centrocampisti. Biglia, Bonaventura, Calanoglu. Chessie, Locatelli, Montolivo Attaccanti. Cutrone, Calinic, Andrè Silva, Suso.